Prosegue l'impegno del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università d'Annunzio nel percorso di accompagnamento al mondo del lavoro degli studenti. Presso la sede di Viale Pindaro a Pescara si è tenuta la quarta edizione del Career Day a favore dei neolaureati e laureandi dei corsi triennali e magistrali in Economia e Management. È un'opportunità molto bella, preziosa per i nostri studenti dell'ultimo anno e per i neolaureati di incontrare il mondo delle aziende che noi ringraziamo davvero di cuore perché è una forma di socializzazione anticipata al mondo del lavoro e delle professioni e il percorso proprio di orientamento che ci porta oggi a questa iniziativa è un percorso molto articolato che ha visto prima di questa giornata una serie di interventi su come si struttura un curriculum, su quali sono gli strumenti, le tecniche e i metodi per affrontare un colloquio di lavoro, su come si cerca, si può cercare lavoro sul web. Abbiamo in programma oggi più di 100 colloqui, quindi un'attività molto intensa. Questo ormai è diventato un appuntamento consueto e occasioni come queste consentono per noi dell'università di mettere in contatto i nostri laureati con le aziende. Questo è un momento quindi importante da non trascurare, che gli studenti ormai non devono essere soltanto seguiti durante il loro percorso formativo, ma proprio uno dei compiti che è il servizio che qui rappresento, cioè il placement, proprio quelli poi di orientarli nel mondo del lavoro. Numerose sono le aziende che hanno scelto di partecipare all'evento per offrire interessanti opportunità di incontro e crescita agli studenti con il patrocinio di Confindustria Chieti Pescara. Una bellissima e validissima iniziativa che si ripete oramai da alcuni anni. Noi come Confindustria partecipiamo molto volentieri, dando peraltro il nostro patrocinio, perché crediamo in questa partnership tra il mondo della formazione e il mondo delle imprese. Una partnership necessaria affinché i nostri giovani che si accingono a laurearsi possano poi trovare sbocchi nel mondo del lavoro e noi come aziende siamo nella condizione di poter assorbire questa loro domanda di lavoro.